Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di ramponi, di particolare indicato a Single Rock, qui ho il modello automatico a punta verticale e semi-automatico a punta orizzontale. Quindi adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dai ramponi semi-automatici, il modello Fakir 3. Questi sono dei ramponi a 12 punte che mi hanno stupito per una loro caratteristica. Quando li andiamo ad allacciare, ne andiamo a far passare la fettuccia prima sulla punta dello scarpone e poi nella parte posteriore per andare a chiuderli, ecco qui Single Rock si è studiata una chiusura particolare che ci permette di poter andare a chiudere i ramponi facilmente anche quando utilizziamo dei guanti magari belli grossi in una giornata molto fredda. Questa chiusura vi assicuro è veramente geniale. Cioè avendo provato magari anche dei ramponi superiori, di un prezzo superiore qualche settimana fa non avevano questo tipo di chiusura e vi assicuro che una volta che la provate non tornate più indietro. È estremamente semplice andare a indossare i ramponi anche con i guanti grossi come vi dicevo e allo stesso modo è tanto semplice andare a toglierli. Davvero una piccola genialata da parte di Single Rock ma che ne cambia completamente l'esperienza di utilizzo. Parlando di regolazioni invece innanzitutto possiamo regolare il rampone in base alla lunghezza del nostro scarpone va da un 37 a un 47. La regolazione è molto semplice perché abbiamo una leva da sollevare e far passare la parte metallica all'interno fino a trovare la regolazione desiderata. Non è possibile andare a muovere la parte nella punta dello scarpone, quella plastica, perché è ancorata allo scarpone quindi non è possibile decidere se metterà un pochino avanti o un pochino più indietro ma è possibile andare a cambiare quella che è la talloniera, il tacco posteriore. Lì in questo caso abbiamo la possibilità di regolarlo in base alla grandezza del nostro scarpone. E poi per una regolazione millimetrica troviamo anche la rotella nel tacca posteriore che ci serve proprio per regolare a millimetro il nostro rampone sullo scarpone. Devo dire che a livello di regolazioni non sono tutte, nel senso che manca quella anteriore, però quelle che ci sono bastano e avanzano per avere comunque un'ottima regolazione su qualsiasi tipo di scarpone. A livello del materiale devo dire che mi sono trovato molto bene perché l'ho utilizzato per diverse escursioni su diversi tipi di sentiero, dalla neve classica a ghiaccio fino a quei sentieri un po' cattivi dove abbiamo una neve ma sotto c'è la roccia quindi picchiamo spesso il rampone su roccia. Devo dire che a parte qualche segno di utilizzo classico che si vede su tanti ramponi non ho avuto nessun problema, nessuna punta si è sbeccata, si è rotta. Devo dire davvero a questo punto di vista da questo punto di vista dei materiali fatti molto molto bene. Inoltre altra caratteristica sempre apprezzata è che troviamo anche l'antizzoccolo, ottimo, funziona molto bene come quando andiamo a camminare su neve fresca, devo dire anche questo mi sono trovato molto bene. Parlando di antizzoccolo vi racconto che poi questa parte più altre parti del rampone sono intercambiabili, sono sostituibili, nel senso che se dovreste rompere l'antizzoccolo, se dovreste rompere la piastra centrale che collega la parte anteriore alla parte posteriore, eccetera, potete cambiarla acquistando il pezzo nuovo senza dovreste acquistare dei ramponi completamente nuovi. La cosa che mi ha fatto un pelino storcere il naso su questi ramponi però è che in confezione non troviamo la possibilità di andare a farli diventare per esempio automatici. C'è la possibilità perché nella parte anteriore troviamo comunque i buchi che servono per attaccare un supporto automatico, ma questo supporto dobbiamo acquistarlo a parte. Ed è da acquistare a parte anche la confezione per portarli in giro. Non è data di serie. C'è da dire che sono piccole sottigliezze che però comunque vanno sempre riportate. Passando a parlare del rampone automatico, il suo nome è Lucifer 3. Questo appunto ha la possibilità di essere utilizzato su degli scarponi con il doppio attacco posteriore e anteriore. Ha le medesime caratteristiche del fakir che abbiamo visto prima, quindi ha l'antizzoccolo, ha la stessa regolazione sulla lunghezza del rampone fatta dalla leva, molto semplice. Ha la stessa tipo di chiusura che abbiamo visto anche su quelli di prima, quindi facilissimo utilizzarli anche con dei guanti estremamente grossi, senza nessun problema, davvero facilissimo. Cosa cambia rispetto a quelli di prima? Innanzitutto le punte. La punta in questo caso abbiamo due punte verticali, quindi ideali per quando andiamo su ghiaccio, a fare cascate di ghiaccio, eccetera. C'è la possibilità anche di ridurli a una singola punta, quindi utilizzarlo a monopunta. Molto semplice, basta andare a svitare la parte anteriore, togliere una punta e inserirne solamente una. Le punte, devo dire comunque che lavorano molto bene, anche su ghiaccio bello duro, se si ha la tecnica giusta penetrano il ghiaccio veramente molto facilmente, quindi anche la punte di sei materiali è fatto molto bene. L'attacco sulla parte anteriore è regolabile in tre punti, quindi in questo caso possiamo regolare sia l'attacco anteriore che l'attacco posteriore, quindi veramente ottimo per farlo calzare al meglio sul nostro scarpone. E come per l'altro poi troviamo anche la regolazione millimetrica sull'attacca da porre sul tallone. Quindi devo dire che a punto di vista di regolazione lui è veramente completo. Materiali anche lui fatto veramente molto bene, l'ho utilizzato in diverse escursioni, diverse ascese, non ho avuto nessun tipo di problema. Che dire, anche lui un rampone fatto estremamente bene. In questo caso, come su quello che abbiamo visto prima, purtroppo non vengono date in dotazione le possibilità di renderlo o semi-automatico e nemmeno la custodia per portarlo in giro. Quindi anche lui manca veramente di una piccola virgola per renderlo quasi perfetto. Ma arriviamo anche ai prezzi di questi due ramponi, perché anche qua devo dire che la nota positiva c'è. Soprattutto sui fakir, sul modello semi-automatico, perché parliamo di un rampone che online si può trovare anche sui 80-90 euro. Quindi devo dire che è un rampone completo, con una funzionalità, come dicevo, estremamente interessante per poter andargli a chiudere utilizzando anche i guanti, e comunque fatto con degli ottimi materiali. Poi parliamo di un rampone che pesa 900 grammi, quindi comunque è nella media di mercato. Per quanto riguarda i Lucifer 3, invece, naturalmente il prezzo è superiore, parliamo di un rampone che costa 150-160 euro. Anche lui comunque come prezzo rispetto ad altri ramponi specifici per cascate di ghiaccio è un pochino sotto al prezzo medio. A livello di peso stiamo sui 960 grammi secondo punte, 930 è nel caso utilizzato con una singola punta, che comunque è nella media rispetto a tanti altri ramponi. Quindi, che dire, io ve li consiglio assolutamente tutti e due. Se da voi decidere quale dovete acquistare in base a quello che dovete farci, dal punto di vista dei materiali, delle funzionalità e anche dei prezzi, sono dei ramponi che mi hanno veramente tanto tanto stupito. E detto ciò, ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaurativo anche per questa recensione. per il caso della guardate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!